naengolan si scrive così, naengolan, n a i g g, quante g c'ha? g? due g, due, due, naengolan, o l, naengolan, n a i n o g, n a i n g g l a n non è n a g a l l o l a n 3 l 3 l e 2 g angola n a i g l l tipica indiana indiana indonesiano abbiamo detto rezzo indonesiano, quindi in indonesia non lo so, forse n a i n g g double g m g w g o l a n n g n n g g naengolan il ninja il ninja il ninja il ninja, ora già ci chiamano ninja raga, naengolan, n a i ragia ragia, Jean R A D G A r-J-A-R-I-R-I-R-D-J-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-D-J-ER-I-R-I-R-I ..dj dai ci siamo Raja ci siamo ci siamo Raja Nainggoland Ok, Nainggoland Nainggoland No, D Nainggoland No, non c'era Quindi Nainggoland E' felice con M Finale R A D G A N A I N Doppolo G O L A N